Le case che si vendono velocemente di solito sono anche quelle che si vendono a un prezzo migliore. Le case che hanno le maggiori possibilità di ottenere delle offerte più alte sono quelle che riesci a vendere entro le prime 4, 5, 6 settimane al massimo, diciamo entro il primo mese, il primo mese e mezzo. Perciò se la casa di cui stai gestendo la vendita non è messa in vendita a un prezzo corretto durante questo periodo rischi di perdere la possibilità di fare una buona prima impressione sul mercato, di avere un grande impatto sul mercato, di venderla velocemente e al prezzo più alto. Molti proprietari che incontrerai ti diranno che vorranno aspettare che il mercato torni a crescere per ritirare delle offerte più alte. In realtà è vero esattamente il contrario, prima venderanno più guadagneranno. Non lavorare con questi venditori a meno che ovviamente anche tu non sia disposto ad aspettare che il mercato torni a crescere per guadagnare la tua provvigione. Questi venditori dimostrano di avere una scarsa motivazione. Lavorare con venditori scarsamente motivati non ti permetterà di sviluppare una grande carriera nel settore immobiliare che è quello che tu meriti.